BELLA TUTTI RAGAZI SONO CHIUR E Oggi siamo in un nuovo video in cui piccolo vlog perché oggi dovevo uscire il video di pokemon ragazzi ma camtasimi da problemi cioè secondo me la mia teoria è che pokemon non funziona cioè praticamente quando io provo a fare pokemon l'editing cioè edito tutto rendering non va quindi pokemon ragazzi non lo farò più nel canale detto questo domani questo è un vlog così in conclusione dell'estate vi ringrazio per questi due mesi passati assieme questo questa finestrata è stata fantastica grazie a voi siamo alla quota 137 iscritti stiamo salendo veramente grazie ragazzi domani ricomincia la scuola eh sì purtroppo vabbè ragazzi dai non ne facciamo un dramma ricomincia per tutti la scuola volevo sapere io che vabbè sono ancora il terzo anno di superiori ogni anno non è che mi dico sono triste perché ricomincia la scuola ma è né caldo né freddo se devi ricominciare ricomincia ogni cosa a suo tempo quindi voi sotto nei commenti se grazie grazie mille ragazzi che cazzo sto facendo della mia vita voi se mi scriveste sotto nei commenti come prendete questo inizio a scuola magari per chi è già iniziato come avete iniziato l'anno come come pensate di di cosa proiettarvi in futuro eccetera eccetera quindi ragazzi si torna sui libri si torna a studiare proverò a fare un video al giorno ragazzi veramente è dura fare un video al giorno ma adesso ci proverò mi è arrivato l'hdpvr non ce l'ho qui adesso perché dovrebbe arrivare tipo fra un'oretta ma si domani prova a far uscire un video di fifa 16 quasi sicuramente uscirà detto questo rimanete attivi anche sul canale comunque una cosa che volevo dirvi ragazzi non preoccupatevi io ci sono un video al giorno esce sempre cure c'è è con voi quindi detto ragazzi va bene però se sono dislessico già l'anno parte male detto questo ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace commentate passate dalla pagina facebook instagram anche come nel video lasciate un iscritto niente da chiudere tutti ci si becca al prossimo video never back down